ragazzi Zlatan Ibrahimovic è del Milan, è del Milan ragazzi allora mi sembra assurdo dopo che tutto questo era, tutta questa voce di Ibrahimovic di un suo ritorno in Serie A era stato accostato al Napoli e quindi mi sembra abbastanza assurdo parlare di possiamo dire un trasferimento sfumato per il Napoli anche se poi non lo si può dire in realtà perché a quanto pare è il Napoli che ha deciso di non andare su di lui poiché di attaccanti il Napoli neanche panti il Milan ora, secondo me personalmente questa è più un'operazione di marketing del Milan marketing poi fino a un certo punto però sì, magari ha preso un leader di spogliatoio e niente di più ragazzi non immagino che Ibrahimovic possa fare chissà che cosa nonostante sia un giocatore molto valido in Serie A non so in Serie A, penso sia ancora valido come giocatore però non penso che abbia fatto un colpo non si può neanche definire colpo, secondo me è un acquisto a livello di marketing e di spogliatoio niente di più, ve lo dico proprio chiaro e tondo lo avrei detto anche se fosse venuto al Napoli, state tranquilli tanto è vero che ultimamente era stato accostato anche al Bologna, al Brescia, alle peggio squadre e quindi alla fine per farvi capire quanto può essere forte Ibrahimovic ora ad ogni modo Ibra è del Milan, ragazzi Dio Ibra torna a Milano io non gli posso fare altro che augurare il meglio e salutarvi perché questo video finisce qui bella la marca azzurro, 1926, ci vediamo alla prossima e sempre Forza Napoli e Forza Ibra che comunque è un giocatore che stimo parecchio